C'è uno dei protagonisti di questo 1-0 di Siena su Ferentino, Daniele Casadei. Daniele è una vittoria molto sudata, un po' come quella con potenza in gara 3, però altrettanto importante. Ce l'aspettavamo, sapevamo benissimo che non sarebbe stata una partita facile. Ferentino è una squadra di talento, preparata, ben allenata da un coach competente ed esperto come Friso. e quindi sapevamo che non sarebbe stato facile. Noi siamo riusciti a spuntarli in questo primo round e adesso cerchiamo di andare avanti. La tua schiacciata per il vantaggio di Siena, la tripla di Furlanetto. In Serie A c'era Basile che metteva questi canestri che non esistevano. Ora qua c'è i famosi tiri ignoranti, qua c'è Furlanetto che si è inventato veramente un canesto fuori equilibrio incredibile. Devo ammettere che effettivamente ha un bel merito, nel senso che lui spesso ci ha abituato un po' questi tiri imprevedibili. Ed è stato un tiro decisivo perché Ferentino era stata bravissima con Cercosta a fare quella bomba che aveva di nuovo portato in parità la partita dopo la mia schiacciata. E Furlanetto ci ha inventato questo canestro che ci ha dato, intanto ha dato loro una bella mazzata e a noi ha dato quei tre punti che servivano per gestire il vantaggio nell'ultimo minuto. Che è successo nel terzo quarto? Si è incastrato qualcosa, loro hanno difeso sicuramente meglio, voi avete sbagliato anche tanti tiri liberi, un blackout e basta? Sì, probabilmente sì. Loro hanno sicuramente alzato un po' l'intensità difensiva e noi l'abbiamo accusato. Purtroppo c'era anche del nervosismo che ha contribuito a farci sbagliare anche i tiri liberi. Per fortuna siamo riusciti, grazie al primo tempo che avevamo acquisito un po' di vantaggio e ad un quarto quarto in cui ci siamo ripresi bene verso il finale siamo riusciti di nuovo a tenere la distanza. Ferentino ha dato l'impressione di poter allungare questa serie e che sia un avversario bello tosto. Che gara 2 ti aspetti domenica in Cioceria? Loro hanno anche un bel fattore campo, i tifosi che erano qua stasera per loro hanno tifato bene, hanno dato un contributo anche loro, quindi in casa di Ferentino sarà durissima perché il tifolo per loro sarà amplificato ancora di più. Noi sappiamo benissimo che non sarà una partita facile, allo stesso tempo siamo ben decisi a rendergli la vita molto difficile.